Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Mi raccomando iscrivetevi e mettete like Oggi faremo le forme con lo slime insieme alla mia migliore amica Sofia, vieni Ciao, questo è lo slime che useremo E adesso Sofia ci farà l'unboxing dello slime Ok, allora, apriamo Prima di tutto prendo la sorpresa Sì, perché non tutti gli slime hanno una sorpresa Ma questo slime, beh, lo ha Ecco, oh, madame Eccola, è un piccolo unicornino Andiamola a posare Perfetto, ve lo faccio vedere meglio Questo qui E qua c'è lo slime Adesso ce lo dividiamo e facciamo le forme Vabbè, stacca Ok, questo è per Serena Ok, dobbiamo cercare di fare delle forme Tipo delle persone che stanno in piedi, per esempio Ma come faccio? Non lo so Sarà molto difficile Scusate cosa ho preparato io Ok, io nel frattempo non posso vedere Perché sia devo gestire al video E quindi non potrei vedere Scusatemi, ho dimenticato questo Vabbè Ovviamente non siamo molto organizzate con i video Perché è la nostra seconda volta Quindi non siamo proprio bravissime Vabbè Allora È molto difficile da staccare, devo dire È un po' dure in Serena Ah, sei qui Non me ne ero nemmeno accorta Un po' di là Super Vabbè, un secondino Non ci saremo perché dovremmo fare una piccola cosa A dopo A dopo E rieccoci Sì Perché un attimino avevamo una piccola cosa E quindi, vabbè Adesso faccio così A voi sembrerà che non abbiamo fatto niente Non è vero Ecco È la sparita la luce per un momento Sì Perché abbiamo una luce qui vicino E quindi Ah, sta luce Vabbè Lasciamo così Un attimino, signore Non mi ha detto un attimo Ok Se rilontaniamo un pochettino Ok, perfetto Allora Si era attaccicato lo frame al pavimento Vabbè Ovviamente non siamo Le migliori youtuber del mondo Perché Ovviamente Ancora abbiamo delle cose da fare Quindi Siamo molto occupate E quindi Mamma mia che brutto Cioè che gambe brutte che io ho fatto Mamma mia Ricordate che io sono qua dietro Solo se non sto guardando Eh sì Perché devo stare sia attento a voi Che A come lo faccio Voi se volete Potete votare poi Quella sarà lì Più bello Credo che sarà quello di Sofia Mamma mia Quando sei indietro Eh Raga Eh Cioè Non lo fate Non insusate gli altri Perché ci mette tanto Wow Cioè È cattiva lei È cattiva No Allora perché ho fatto il canale Cioè sono ragazzi Mamma mia che brutto Ma che è indietro Ma che staresti facendo Eh no Si è splosciato tutto Sì ma cosa staresti facendo Un gremi Come un gremi Voi però se avete visto Il film commentato Che io vi risponderò Ovviamente Adesso Facciamo Io non so che fare Farò Un pazzo di neve Non lo devi spoilerare Comunque mi hai rubato l'idea Perché lo stavo facendo pure Vabbè allora cercherò Di fare qualcosa Possiamo fare qualsiasi cosa Sì Umani Anche qualcosa Che non esiste E gli diamo un nome Tipo un drago brutto Ecco Che manco ci sono i draghi Quindi Allora Facciamo una brutta testa Se sentite questo rumore Perché io schiaccio Lo slime con i pugni Sofia Violenta Con tutto E tutti Eppure col tappo Voilà Uli Ok Vabbè Ovviamente Non faremo tantissimi video Cercheremo di farne Il più possibile Sì perché In casa nostra Non c'è molto silenzio Quindi Ovviamente Nei momenti più silenziosi Possiamo farlo Invece Nei momenti Non silenziosi Non possiamo farlo Voi Voi avete indovinato Il mio che cos'è? Secondo me È molto facile Perché mi sta venendo Molto bene E Dopo Dovrete Indovinare Il mio E Anch'io dovrò Indovinare Il tuo Sì Carino Spero Venga bene Forse alcuni Il mio L'hanno indovinato Forse Io tipo Non so cosa Sto facendo Cosa? Non lo posso dire Se non lo spairo gli altri È alla fine Alla fine Si dice Bene abbiamo finito Ragazzi Mi raccomando Commentate Prima Di vedere Tutto il video Eh sì Perché poi Barate E non va bene Io farò una cosa senza senso Perché mi è venuto in mente No Il mio è un animale No Il mio è una cosa senza senso Ok Va bene Le cose senza senso Di Sofia Dopo le vedrete Infatti Dopo vediamo Questa cosa senza senso E raga Questa guarda Tra un poco Quindi io vado Nell'altra Camera Ma come? Si In realtà ho già visto Eh niente Ma tanto Tu non devi indovinare Pure io Però Però cioè Io guarda Ma non capisco Appunto Perché non ti capisce Cioè le mie mostruosite Non le capisce nessuno Devo fare Gli occhietti Ma lo sapete oggi Dove siamo andati? Eh eh Indubitarete Eppure quello che stiamo facendo stasera Scrivetelo qua sotto Nei commenti E noi vi risponderemo Ovviamente mettendo Un piccolo acquaricino Ok Allora Il mio è pronto Il mio no Ve lo faccio vedere un attimo E questo qui Non credo che si capisca molto Che cos'è Ma Io l'ho capito Vabbè Si dovrà dire alla fine Sì Io non capisco Quello che Sofia Sta facendo Perché è una cosa Orrenda Che non vi dico Dopo la vedrete Infatti E non gliela devi Il mio sembra Una caramella gommosa Cioè Il mio Penso Stavo cercando Di fare un umano Però no Non so se è venuto Tanto bene Perché non è un umano È un'altra cosa Ok È quasi umano Diciamo 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 Vabbè Appena lo vedranno Potranno Indovinare Sì Vabbè Intanto Si possono Si possono Porre delle domande Diciamo così Quindi se volete Nei commenti Scrivete qualcosa E noi faremo Un video risposta Sì Risponderemo A tutti i commenti O magari Risponderò solo Serena Perché io sono Molto impegnata Eh sì Purtroppo Faccio tantissime cose Quindi non posso Sì Ogni tanto In qualche video Di questo Sofian ci sarà Perché Lei si è iscritta Ad un corso Di danza E quindi Ovviamente Nel pomeriggio Non ci sarà Un attimo Io vi consiglio Di venire Nella mia danza Si chiama dancing E ci devo fare pubblicità Non credo Che bella Ok Vabbè Fanno pubblicità Almeno poi hanno Più persone E Quelli che Mi raccomando Fate venire pure i maschi Perché siamo solo femmine Ah Vabbè Io l'ho creata La mia aspetta Però si è deformato Dai Se hai Ancora tempo Si è deformato Si è deformato Mamma mia Che brutta faccia Che io fa Vabbè Io dentro Non lo posso colorare Perché Per la cosa Che sto facendo Cioè Serena Spistia Ma non so Cosa sto facendo Infatti Perché dico Ma che cos'è Cioè Che cavolo è Scusate per la parola Però dico Che cos'è È una cosa bella Ok Beh Io l'ho visto Io scriverò il nome Però Serena Non deve guardare Ma va bene Scusate Scusate Un attimo Rieccoci Ho cambiato idea Scriverò solo L'iniziale E la finale L'iniziale E la finale Ma come Facciamo Lo dovete Indominare Prima però Inizia con la S E finisce con la A E il nome Della questa scrittrice Di come Ok Se hai per me Possono vedere il mio Perché ho finito Va bene Un attimino Che vi porto Dalla parte Di Sofia Come vedete Qui c'è una Mettila più qua Come vedete Qui c'è una bellissima S E una bellissima A E questa è la persona Ok Non sono tanto Prevo a disegnare Ok Va bene E poi c'è il mio Secondo te Sofi Che cos'è Polpo No Non è un polpo Secondo me Un tacchino Non è un tacchino Testa a ruga Brava Secondo me Che cos'era Commentate Vabbè Io adesso E secondo Allora E secondo voi Qual era la cosa Che ho fatto io Che nome aveva Dico solo Che il nome Di questa qui Vabbè Adesso Vi lasciamo Quindi Ci vediamo In un prossimo video Ciao